non si sta conservando profeta s-ma s-a simbolsul l-am Знаat-i l-am intrati nu-i l-am intrati l-am intrati Questa è la seguitura che non mi ha deciso E tutta lì la strada vanno C'è appena finito la funzione Se non mi ha esalti il tempo Bene 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 bravo La strada vanno 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 Non ho pensato che avevano Non mandare qualcosa di prenotato E' E' Poi, nel senso, sono arrivati in città, si fa un'attività per la mobilizzazione e altri numeri. Ecco bene. E' un progetto di sanitaria, nel senso che non mi sono capito di capire i contatti. E io, a parte, la testa c'era un po' niente. E poi, perché? Perché era tutto molto composto nelle tempiste, nelle composte da un po' che fanno anche niente. Il make-up passava un po' il secondo bianco, che era appunto uno studio basato su una classe di ragazzi in una studiandografia. Quindi il loro obiettivo era farmi scantare tutti i giorni o tutti i prossimi. E lei guardava un po' di foto che lo scattava, non mi piaceva scattare un po' di foto, le riprodurrava, le spiegavano tutte le cose delle luci. Cioè, da una parte per me, anche assistere, è stato interessante. Perché non mi intendo di dire tutto da mia. Ecco, è stato... Si, ora, più grandi cose, non c'è altro più nulla, vi dirò perché, quindi, per il make-up passato graffi che non mi sono capito. È stato molto buonissimo. Però è stato bello il fatto che, a seconda di come posizionavano una luce, come tantissime, con un'immagine da un test che non l'ha scattata, non l'ha scattata, non l'ha scattata sullo schermo. E poi devi vedere da poco, perché è immediato come era la resa, era immediata, e a seconda di come si postava il mouse, quanto la intensità delle luci, c'era il musicolo, il musicolo del voto. E... E niente... Si, e poi ragando, perché... All'inizio l'ha fatto provata su, poi... facevano della differenza di quando si postava le luci lei, che erano tutte le fotografie. e quindi, cioè... Tutte le cose grande per avere effetti. Quindi ci vuole, sì, insomma, avere, diciamo, due grossi, sicuramente. Però è molto simile. Poi ho fatto un po' vestire, un po' delle... Tante spalle, non lo so per un'altra. Nel senso... Perché la devo vestire? Se la vestire assoluta... Beh... Dice, no, no, perché... Per alcuni capi, se no... Dice, loro magari sono a destra, o si sciocano i trucchi, o si sciocano i capelli, che fanno... E anche i drappi... Si, c'erano questi drappi da mettere addosso, a quel punto, e quegli spilli, a seconda di come dicevano di me, che si intendo, che c'è l'esplice, ovunque dov'assù. Dai e sale? Si, si, c'erano... Dai e sale? Eh... Ma noi non sono entrati. C'è ragione da una parte... Eh... Da una parte... C'è ragione da una parte... E... Non c'è ragione da una parte... Eh, da una parte... Quanto è che lei? Ah, no, perché lì, ma non è un tappissimo d'accordo E invece C'è, da volte, è una cosa vera, stai C'è, da volte, è una cosa vera Quanto non è che lei è un tappissimo d'acqua E io, da volte, sono molto felici, in quella società, mamma, mamma E, però, ecco, ora se mi riesci, è comunque, ma scontro, c'è bisogno di tutto, è comunque, che non si sta conservando, perché, per adesso cioè non forzate Grazie a tutti